Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo Vlogmas! Oggi siamo qui con quello che credo che sia la haul più grande che abbia mai fatto nella storia del canale Cioè raga, una follia, ho svariggiato Temu, ho letteralmente preso qualsiasi cosa per Natale Questo perché io ve l'avevo detto che ad Halloween avevo fatto delle cose e poi è andato male Halloween Mi sto rimboccando le maniche, Natale non esiste Ma prima di continuare, dato che questo è un video sponsorizzato proprio da Temu Vi lascio a tutto quello che vi devo dire su questa sponsorizzazione Grazie Temu per la collab Se ancora non lo conosci, Temu è una piattaforma online di e-commerce E' un'app per lo shopping che offre prodotti a prezzi molto competitivi in diverse categorie Che sia moda, gioielli, trucco, bellezza, decorazioni per la casa elettronica, articoli per la cura di animali domestici E molto 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 altro Puoi scaricare l'app Temu con iOS e Android Oppure puoi visitarlo su temu.com e ti lascio sempre il link qua sotto in descrizione Con il mio codice sconto avrete il 30% di sconto più degli sconti esclusivi del 90% sui miei prodotti selezionati Trovate tutto qua sotto sul link che vi lascio appunto nell'info box E il mio discount code sarebbe DKM7376 Ve lo metto qui in sovraimpressione altrimenti si capisce E' incredibile che la maggior parte dei prodotti siano praticamente a meno di un euro E ci sono delle cose stupende per il Natale mi sto veramente sbizzarrendo Ma in generale anche per la casa E infatti vedrete presto tantissime altre cose che io stessa acquisterò proprio per la casa Perché molte le definirei proprio aesthetic Una delle cose più belle di Temu è che puoi acquistare tutto quello che ti serve Sempre sullo stesso sito, quindi su Temu Perché ha talmente tanti articoli, spazia da talmente tante categorie di articoli Che non hai bisogno di andartelo a cercare su vari siti Fai un ordine unico e avrai tutto quello che ti serve Iniziamo dal primo pacco che contiene... Ah, dobbiamo metterci le pile Ma un mini stop Sì, lo metteremo là sopra tipo... Carino Mi piace, sì Abbiamo una scatolona intera qui In realtà questi non è tutto, ce ne stanno pure la gioetta per terra Esatto Vai Una scatola, vai Ah, vuoi aprirlo con la mia unghia? Aspetta Spero che la mia estetista non mi stia guardando Ciao cara Certo Non lo sto facendo Non lo sto facendo con le unghia Sto usando i burpastrelli Un po' ho preso Ma cos'è? Cos'è che ho preso? Non mi ricordo più Ho preso tanto È bello No, voi non avete idea che cos'è No, è bellissimo Allora, reggi il primo pezzo Reggi Tenta, eh Riccato No, vabbè No, questo è stupendo Genia, mamma Reggi Reggi bene Sì, mamma Sì, mamma Non farlo cadere Mamma mia, come è bello Tieni, mamma Tieni, mamma Tieni Che meraviglia Guarda, l'ultimo pezzo con la felina Nooo Ma Sì, cara Oh, sì Sì, capito Ecco No, raga Ecco, aspettate che lo componiamo No, va qua No, va qua, qua, qua Allora Devo montarlo meglio ma, insomma, è un centrotavola bellissimo, raga E si possono mettere sopra le cose Questo deve essere natale No, ma io ho detto sempre No, ma io ho detto sempre No, ma dai No, ma dai No, no, sempre Dio, 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 Dio Sì, i pelosetti al Grinch Oh, mio Dio, questi sono No, regà No, raga No, no, no Cos'è? Allora No, no, no No, no No, no, no Sono dei signori pelosetti al Grinch Solo dei signori pelosetti a Grinch Agri Come ha detto Laura Raga, sono i signori pelosetti più belli del mondo Ci abbiamo Santa e il Grinch Sono bellissimi no raga io impazzisco no vabbè raga cioè io riempio la ligeria ma io non credo che li toglierò mai ma no raga no no raga un tappeto con scritto welcome con la manina del grinch ma vuoi rovinare questo magasso del grinch no lo perfeziono guardate che bello no è bellissimo raga bellissimo questo però non lo uso fuori dalla porta l'ho detto da un'altra parte e poi vi faccio vedere un altro no raga quanto è bello no raga quanto è bello no raga quanto è bello oddio 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 suona suona ci è scritto many christmas e con le manine tutte pelofine guardate che carino oh 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 io ti adoro lo amo lo amo lo amo verde e rosso e l'agrifoglio fa la 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 che è questa cosa è appiccchini di natale che c'è si 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 sono appiccchini di natale questi non si vedono bene perché sono tutti sono quasi trasparenti raga sono come si chiama la neve no raga no 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 raga no 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 mio dio mio dio mio dio mio dio mio dio mio dio ok sto ripartendo sono impazzita totalmente io ve lo dico sono partita per la tangente e non me ne penso un tappeto natalizio l'ho pensato per le camere per il bagno è uguale per qualsiasi è vero grazie sono troppo belli cioè raga è troppo è tutto bellissimo perché abbiamo due bagni quindi ne avevo preso due pensando per i bagni altrimenti uno da una parte e dall'altra del letto no vediamo cioè comunque vabbè no sapori morbidissimi raga ottima qualità pagati niente praticamente è bellissimo sì amore avremmo anche questi altri questo è una cosa che non c'entra niente è per gli animali poi ve lo faccio vedere montato in un video non c'entra niente no c'entra niente con natale però vabbè può essere un regalo di natale per i nostri amici pelosi e si mette qua l'acqua e la distribuisce da sola poi lo montiamo in un video ve lo faccio vedere poi ho preso anche delle lucine natalizie con questa è per la camera delle bambine con tutte le con tutte le come neve e poi come neve ah questo è per massaggiarsi i capelli oh mio dio questo è per là dietro un lumino di natale bellissimo poi vi faccio vedere tutto meglio nel video dove organizziamo tutto ma è bellissimo altra busta altro giro altra cosa morbidissima oh mio dio raga no no raga questa no 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 è la nuova cucettina invernale per i bambini è una cucetta invernale per i gattini secondo me ascia sarà gelosa sì un pochino però l'ho preso per i gattini guardate qua che è bello perché non lo sanno sempre freddo e così fanno più caldo guarda che bello guarda che bello Maria Luisa guarda guarda chi è Maria Luisa? non lo so andiamo io penso so che cos'è questo cos'è questo? ma perché? eh secondo te? eh eh Lara deve andare alla danza quindi continuo io da sola amore mio quanto è diventata grande comunque allora quella è poi un'attività che facciamo insieme tutto a tema natalizio quindi sono tipo i diamond che devi attaccare però tutto a tema natalizio poi andiamo avanti con uh appiccichino Lara l'ha un po' strapassato però un altro appiccichino questi saranno tutte cose da mettere poi sulle finestre eh questo non so come ci sia finito dentro io sì eh belle molto belle non c'è niente con le danza non lo diciamo nessuno beh no in realtà c'entra cioè mi servono per il look natalizio da uh questo già trova il suo posto oddio aspetta eh ok cioè raga ma che figo poi che cioè tu prendi la ehm cioè il il cuscino ed è già un cuscino cioè non è che è una cosa da riempire è un cuscino caramella natalizio cioè guardate quanto è figo è bellissimo e io infatti lo metto già qui cioè è una caramella di Natale ma quanto è figo no raga io sto sconvolta comunque ma la qualità di sta roba ma vogliamo parlarne cioè io veramente gioffredo senza parole qui mi manca Lara che mi dice chi è giusfredo amore di mamma però si sta divertendo perché lei ama fare danza quindi sono contenta per lei bisogna essere anche felici per gli altri non bisogna essere mai gusti oh allora 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 qui ci sono degli spoiler perché oddio in realtà non so se sono degli spoiler usciranno prima gli altri video non ne ho idea però allora questo che cos'è allora primo pigiamino per bambini per bambini 4 anni quindi questo lo vedrete su Zoe qui infatti ho un'altra bag con un bellissimo oltretutto size 10 anni quindi per Lara un altro bellissimo completino di Natale ok questo è per adulto una M questo che cos'è ah questo è bellissimo queste sono le tovagliette per la tavola stupende ce ne sono 4 così la tavola sarà tutta agghindata non vedo l'ora di farvi vedere tutto quanto in un video tutto bello sistemato vi faccio proprio il tour di casa con tutta questa roba cioè perché ho 300.000 cose praticamente sono troppo belle cioè io veramente io sono innamorata nel momento nel quale entrerete sul tema vi accorgerete della belletta caraga cioè io ho una haul così grossa non l'ho mai fatta ok che cos'è questo ah ok un altro un altro pigiamino uguale a Zoe quindi sempre per Lara però questo è uguale a Zoe così loro sono vestiti uguali qui abbiamo vediamo subito mamma mia che meraviglia non vedo l'ora di sistemare tutto giuro vi faccio un vlog lunghissimo solo per sistemare tutto tutte le cose in giro forse è una delle parti che mi piace di più il Natale da quando vivo da sola e negli anni ovviamente insomma sono diventata più incline ecco a questo forse è proprio il fatto di sistemare tutto per Natale mi piace da morire ok che cosa è questo? ah che belli questi questi li presi anche un po' di tempo fa sono per le serie sono bellissimi secondo me non vedo l'ora di metterli mamma mia sono contentissima mi giuro si mettono proprio sulle serie e dovrebbero andare bene per le mie serie speriamo poi ci proviamo un video insieme e sarei contentissima mi giuro ok ultimo pacchettino vediamo un po' vediamo vediamo cos'è questo? ah no ah si che ridere mi è sfuggita un po' la situazione di mano questo è per il gabinetto se eh eh si è per decorare il gabinetto il gabinetto comunque spero tantissimo che questo video mi sia piaciuto lo haul più grande che abbia mai fatto in vita mia intanto posso dire adesso che ho toccato con mano io avevo già prima della collab in realtà avevo già comprato proprio io su Temu e avevo già appurato quanto mi piacesse Temu lo trovo incredibile lo trovo veramente bellissimo perché su sto sito c'è di tutto a pochissimo prezzo ma adesso che ho toccato con mano raga onestamente io per tutte le festività soprattutto mi ci proprio mi ci fionderò quindi amori miei ci vediamo nel prossimo video dove mettiamo tutte queste cose ovunque per la casa e niente vi voglio un mondo di bene grazie per essere state qui con me i love you